Dimissioni con effetto immediato. Il delegato provinciale del CONI, Stefano Passalacqua, getta la spugna. Aveva rilevato la guida dopo la bufera battutasi sul comitato provinciale, che per oltre 30 anni era stato gestito da Rosalio Cintolo. Coinvolto da un'inchiesta giudiziaria e arrestato due anni fa, ora lascia perché il suo impegno per rilanciare la scuola regionale di sport non trova riscontro nel CONI stesso. Il fatto di abbandonare una struttura, averla realizzata e poi abbandonarla non è rispettoso nei confronti del mio territorio. Ho fatto di tutto per trovare questo corso delle cose, purtroppo nel momento in cui addirittura mi è stato anche notificato il cambio di sede, quindi non lo posso dire, è una conferma definitiva, ho detto va bene. Comune eventualmente subentra, ma è un altro discorso, l'abbandono della sede per andare in un'altra sede all'interno, sempre dentro Ragusa. La manifestazione che non è più di interesse strategico, però io da ragusano non lo posso accettare.